macchina che ha già iniziato il suo percorso tutte su una fila le protagoniste di questo centrale sul miglio e tutte ormai praticamente a rete con zwicky fox che sopraggiunge ora con il vantaggio della curva macchina che accelera si ritrae zelda zack allo stacco è facile alla comando zoe gams che scende la corda all'esterno c'è zucchero model con a largo il numero 7 ziludela zucchero model che va su zoe gams nel tentativo di chiedere strada la seconda posizione della corda per zwicky fox che nega la discesa a ziludela quindi za kb che va in terza pariglia così il passaggio ai 400 metri con zucchero model che fa 29 2 scende alla corda nei confronti di zoe gams e lascia così scoperta a ziludela che si trascina za kb la cui schiena è presa da zan tenino i 600 di gara che vanno via nell'ordine del 44 e 7 per zucchero model che si mantiene in evidenza nei confronti di ziludela mentre zoe gams mantiene dirigentemente la seconda posizione alla corda dando la pariglia esterna za kb si va così di fronte con le posizioni che non mutano il gruppo disposto in pariglia alle spalle della battistrada zucchero model e ora c'è la mossa però in progressione da parte di ziludela che va all'attacco deciso al chilometro passato in 1 14 6 e passa ma si fa vedere subito za kb che si libera rimasta scoperta e va a sua volta all'attacco di ziludela quando si va ad affrontare la piegata conclusiva ziludela di dentro za kb all'esterno poi zucchero model del zoe gams più indietro le altre l'ingresso in diritto ed arrivo con za kb che va decisa in pressione su ziludela tende a mettere la figura davanti za kb su ziludela che tenta la difesa per linee interne le due ancora molto vicine con za kb che a mezza di vantaggio nei confronti di ziludela che prova a rientrare fino sugli ultimi metri nel finale za kb probabilmente mantiene un qualcosina di vantaggio di fronte al ritorno convinto deciso vehemente di ziludela che però dovrebbe essere seconda andiamo a rivedere gli ultimi metri 1 57 7 il tempo totale siamo nell'ordine dell'1 13 3 1 13 4 al chilometro ecco gli ultimi metri con za kb per linee esterne che mette la testa davanti ma ziludela tende a rientrargli nel finale però za kb mantiene un muso ed è il 2 al primo posto davanti al 7 al secondo e il terzo posto dovrebbe essere per ziki fox per linee interne nei confronti di zoe gams questo il probabile ufficioso ordine di arrivo della sesta dalle capanelle grazie 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 a tutti